Guido Guidesi, perché questo documento di economia e finanza non piace alla Lega Nord? Perché manca di coraggio e perché ha dei numeri completamente surreali. In più oggi Renzi non mantiene la prima promessa, che era quella del pareggio di bilancio dello Stato, invece chiede di posticipare il pareggio di bilancio all'anno successivo e oggi la maggioranza con l'aiuto di Sella ha ottenuto i numeri per fare questa cosa. Ma il documento economico e finanziario non è chiaro, non si capisce dove Renzi prenderà i soldi per fare le cose che dice con le slide durante le proprie conferenze stampa, ma soprattutto sappiamo che quei famosi 80 euro che lui tanto pubblicizza saranno completamente succhiati dalla nuova imposta sulla casa e sull'abitazione principale. È un documento spot quindi, secondo voi? È un documento spot che ha numeri surreali, non c'è chiarezza, si parla tanto di spendere il view di taglio delle spese ma non si sa quali saranno, non si sa come faranno le privatizzazioni, quali saranno le privatizzazioni. È un documento completamente vuoto e come al solito il Partito Democratico dice una cosa e ne fa un'altra.